Ciao a tutti, perché non ricevi l'amore che dai? Molte persone si lamentano del fatto che danno amore, che sono attenti alle esigenze dell'altro o dell'altra e non ricevono amore con la stessa intensità, non ricevono le stesse attenzioni. Allora, dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale, che il detto del sommo poeta, amor che ha nulla amato, amar perdona, non funziona. Cioè, non basta dare amore per ricevere amore. Intanto dobbiamo tenere presente questo, che se tu vuoi dare amore devi darlo col distacco del risultato, perché l'amore non è uno scambio, non è che tu dai qualcosa e pretendi qualcosa in cambio. Allora, chiamalo in modo diverso, chiamalo matrimonio, allora col matrimonio è un contratto, tu dai delle cose e devi riceverne altre. Ma l'amore non prevede che venga contraccambiato. L'amore è un'energia. L'amore è il desiderare che l'altra persona possa essere felice, quindi puoi agire di conseguenza. Quindi è un qualcosa di molto più vasto, quindi c'è già un errore alla partenza, perché viene visto l'amore con il dare. L'amore non c'entra niente con il dare. L'amore è un'energia, è un desiderare che l'altra persona sia felice. Non è che per amare devi dare delle cose. Assolutamente no. Anzi, ti do un suggerimento. Se tu non ricevi delle cose, non darle più. Smetti di darle. Perché questo è l'unico modo. Perché noi confondiamo l'attaccamento con amore. Tu dai delle cose e non ricevi, smetti di dare. Smetti di dare. Questa è la cosa fondamentale. Non vuoi dire che non ami. L'amore non c'entra nulla col dare, col dare attenzioni, non c'entra assolutamente nulla. Quello non è amore. Quello può essere attaccamento, quello può essere uno scambio, un sostegno, quello che vuoi, ma non c'entra nulla con l'amore. L'amore è desiderare che l'altra persona possa essere felice. Non implica che tu devi dargli delle cose. Quindi, teni presente questo. Il dare è una cosa completamente diversa. Se tu dai e non ricevi, smetti di dare. Ti verrebbe in mente di andare dal panettiere, gli dai un euro o due euro, lui non ti dà niente in cambio, non ti dà neanche una pagnotta arancida in cambio, e tu continui a darli. Il giorno dopo vai lì e dai altri euro e lui continua a non darti il pane in cambio, non lo faresti mai. E invece nelle reazioni, chiamiamole così, sentimentali, spesso si fa. È ovvio che se a uno dai e non ricevi, non ricevi nulla in cambio e continua a dare, quello continuerà a non darti. Perché questo è un tipo di comunicazione. Se tu dai, poi aspetti. Se non ricevi, vuol dire che devi smettere di dare. Per lo meno, devi anche smettere di rivolgerti a quel bersaglio emozionale lì. Cambia. Quello lì non è amore che tu manifesti, è solo attaccamento. E allora devi crescere prima di tutto te stesso o te stessa. Devi migliorare l'autostima, l'amore per te stesso, il desiderare che tu possa essere felice. Perché lamentarsi non serve a niente. Ci sono tante persone che si lamentano del fatto che stanno con una persona e non ricevono nulla in cambio. Loro fanno chissà che cosa e non ricevono nulla. E cosa ci stai a fare con quella persona, no? Se non ricevi nulla in cambio. Vattene via. Lasciala. Cambia. Chiudi. Questo è un dato di fatto. Non puoi continuare a stare lì, a lamentarti che le cose non funzionano. E più ti lamenti, più vivi attaccamento. Perché poi alla fine la nostra parte emotiva inizia a nutrirsi proprio di attaccamento. Inizia a nutrirsi proprio di polpette avvelenate fondamentalmente. Ma devi smettere. Allora, qua bisogna tenere presente una cosa. Che l'amore puoi darlo a chiunque. Perché l'amore è un'energia, è un desiderare che una persona possa essere felice. Anche senza di te paradossalmente. Non è necessario, non è uno scambio. L'amore non è uno scambio. Quello di cui ti lamenti tu è attaccamento. E attaccamento è dare delle cose, è una sorta di contratto. E allora, se la cosa non funziona, devi cambiare, devi avere la forza. Il problema è che molte persone non hanno la forza. Perché si innescano tutti i pensieri più idioti. Ah, resterò da sola. E fai l'ambulanza. Ah, resterò da sola. Ah, nessuno mi vuole. Uh, come faccio ad andare avanti da solo, da sola. E inizia a fare l'ambulanza, ma fare l'ambulanza non serve a niente. Se tu vuoi sbloccare le situazioni, se tu vuoi fare un salto quantico, diciamo così, nelle relazioni sentimentali, la relazione sentimentale che non è, non c'entra tanto con l'amore. È una relazione di scambio tra le persone in cui io ti do del tempo e devo ricevere in cambio del tempo. Se non lo ricevo, basta, non tenendo più. Questo è, posso fare il primo passo, dimostrare che ho la buona intenzione, ma poi se non ricevo nulla in cambio vado da altre parti. Che non vuol dire che non amo quella persona? Perché il desiderio di felicità verso quella persona posso sempre averlo. Però non devo stare lì a piangere perché nel momento in cui stai lì a piangere, a lamentarti, a fare l'ambulanza, allora cosa vuol dire? Vuol dire che andrai a nutrirti proprio del fatto che non riceverai amore. Perché la parte emotiva si vivrà questa emozione, il fatto di non ricevere. Quindi questo devi tenere la mente, è fondamentale. Se tu dai e non ricevi, smetti di dare. E l'unica cosa è smetti di dare. Perché altrimenti innescherai dei meccanismi deleteri che non riuscirai più a gestire. Bene, iscriviti al canale. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, metti anche un like. Ciao!